Sara Alberti, seconda vittoria nella WNL per l'Italia, il tuo commento? Sì, abbiamo giocato una bella partita, arriviamo da ieri che dopo un 3-2 avevamo voglia di giocare ancora come abbiamo allo stesso livello di ieri. Siamo partite secondo me molto bene, nei primi due set abbiamo fatto davvero un bel gioco, poi nel terzo set ci siamo un attimo messi in difficoltà da sole perché abbiamo sbagliato un po' di più rispetto ai due set precedenti, però poi ci siamo riprese e abbiamo concluso nel terzo set. Per due set si è vista una gran bella Italia, poi nel terzo c'è stato da lottare ma non vi siete perse d'animo? Sì, nei primi due set abbiamo giocato come sappiamo, secondo me siamo giovani e giochiamo da poco insieme, ma si vedono già delle belle cose, quindi nei primi due set abbiamo fatto il nostro gioco, nel terzo ci sta un po' anche di calo fisico, anche mentale, però ecco non ci siamo persi d'animo e siamo riusciti a chiuderla. È la tua prima WNL, le impressioni? Sì, è la mia prima WNL, sono molto contenta di essere qui, ci sono squadre di altissimo livello e sono pronta per testare sia il mio livello che quello della squadra, sono molto contenta.